Buonasera a tutti e a tutti, grazie a essere qui, grazie a Mauro Ottolini e all'orchestra rotovolante che farà la prima serata di inaugurazione del Baikin. Due mesi fa eravamo un po' tutti rassegnati a vivere un'estate senza eventi, senza spettacoli. Questo sembrava il destino della nostra città, come di molte altre città in Italia e non solo, però abbiamo voluto inventarci un'idea nuova, che è questa e che spero davvero vi piaccia. Grazie a tutti e iniziamo, visto che questo è l'anno dove si ricorda uno dei più grandi musicisti italiani che è Fred Buscaglione e noi iniziamo proprio con un pezzo del grande Fred. La più bella Sei tu, il tuo nome è Lily, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, non cambiare anche tu, dolce, non stiagliarti i capelli, non truccarti di più. Amore, ma tu hai deciso così, di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi.